E' stato rieperto questa mattina a Marsala il parco di Salinella, un immenso spazio verde della città restituito alla fruizione dei cittadini dopo la pulizia effettuata dal comune che ha eliminato la discarica che nel tempo si era accumulata facendone uno dei posti più belli e sicuri di Marsala. Alla presenza delle istituzioni, della giunta, dei cittadini e dei rappresentanti delle associazioni che contribuiranno a rendere il posto vivo e utile, il sindaco Alberto Di Girolamo ha spiegato il lavoro portato avanti e l'intento dell'amministrazione, chiedendo la collaborazione di tutti per la sua massima efficienza. L'obiettivo è quello di vivere il recuperato parco di Salinella in sicurezza. Questa è la priorità relativa all'area verde sul lungomare al confine con la pre-riserva lagunare stesa oltre 10 ettari, dove sono stati installati sistemi di videosorveglianza e posizionati di vieti di accesso ai veicoli a motore, sia dal lato del quartiere Sappusi che da quello dell'antica casa del Salinaro. Anche le scuole marsalesi si stanno muovendo per programmare attività didattiche che terrano alta l'attenzione verso l'area verde recuperata. L'amministrazione crede moltissimo nell'ambiente. Marsala è una città europea, ma quando parliamo di città europea significa in tutti i sensi, quindi la città europea del vino, del vento, della vela, ma anche dell'ecologia. In Europa, quando noi andiamo in giro per l'Europa, siamo entusiasti delle città dove ci sono tanti parchi verdi, tante biciclette, tante persone che camminano a piedi, tante piste ciclabili e piste pedonali. E' quello che stiamo facendo. Questo è un parco che è stato iniziato, credo, dall'amministrazione Carfano tanti anni fa, inaugurato nel 2011-2012 e poi abbandonato, come tante cose in Sicilia, nel meridione, si spendono soldi e poi si abbandonano. Noi da più un mese stiamo lavorando in questo momento perché l'abbiamo ripulito, perché era veramente... c'era di tutto. Abbiamo tolto tonnellate di immondizia, di rifiuti, ma anche di alcune siringhe, perché era diventato un posto abbandonato da tutti. Adesso lo doniamo ai cittadini marsalesi. Grazie a tutti.